Bella a tutti raga, qui è Miro ed oggi siamo qui con il sesto episodio della 30 Days Football Challenge La domanda di oggi è un mondiale che non scorderai mai o che ricorderai sempre, adesso non ricordo E' scontata questa domanda, però onestamente ce ne sono due Due che ricorderò sempre e uno che non riuscirò mai a ricordare La metto così, giusto per allungare un po' il video Il primo, che ovviamente ricorderò sempre, è scontata, la risposta è quello del 2006 Chi è che non se lo ricorda il mondiale del 2006? Veramente fantastico, un mondiale spettacolare, uno dei più belli, oserei anche dire Veramente un mondiale spettacolare che diventò ancora più spettacolare Dato che lo vincemmo noi ai rigori contro la Francia di merda Quindi ancora più bella la cosa Poi onestamente un altro mondiale che non mi riuscirò mai a scordare è quello del 2002 Per il semplice fatto che, mi ricordo, ero piccolo, avevo 5 anni e mezzo, ne dovevo fare 6 Però la cosa che mi rimase più impressa, ovviamente, furono le partite Corea del Sud Italia, ovviamente E Corea del Sud Spagna Io veramente quelle due partite non me le scorderò mai Perché furono proprio l'anticalcio quelle due partite Io sono sicuro che l'Italia o l'avrebbe vinto quel mondiale del 2002 O sarebbe arrivata comunque in semifinale Perché veramente avevamo una nazionale degna di nota Che poteva andare veramente molto avanti Però di certo il torto che abbiamo subito nel 2002 Non è stata poi una grazia per farci vincere il mondiale del 2006 Perché veramente ce lo siamo sudato Mi ricordo tipo la partita contro l'Australia Che è stata veramente difficilissima O la partita stessa, la semifinale Contro la Germania, quindi la nazione ospitante Siamo riusciti a passare in vantaggio solamente al secondo tempo supplementare Quindi sono state partite sudate In cui ci siamo veramente meritati la vittoria Mentre il mondiale che non riuscirò mai a ricordarmi Nel senso che mi ricordo solo una cosa E poi vi dirò anche quale È il mondiale del 2010 Un mondiale veramente anonimo Uno dei più brutti con quelle cazzo di WVZ Che l'avrei ficcata riccamente nel culo Però apriamo e chiudiamo subito questa parentesi Ma l'unica cosa che mi ricordo del mondiale del 2010 A parte le WVZ Fu il gol di Shabalala Nella prima partita Sudafrica-Messico Se non vado errato Quella è l'unica cosa che mi ricordo Il resto vuoto totale Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto E noi ci becchiamo in un prossimo video Bella